Questa esperienza mi sta piacendo tantissimo perché ho conosciuto persone con cui spero di mantenere i contatti anche nel futuro. Le attività serali ti rendono entusiasta. Tutte le escursioni GiocaMondo sono un mix perfetto di emozioni ed esplorazioni attraverso la storia e la tradizione del territorio. Tutte le uscite programmate durante i soggiorni regalano sempre divertimento e curiosità. I ragazzi sin dalla partenza viaggeranno insieme agli operatori GiocaMondo che li accompagneranno in tutti i spostamenti. I mezzi utilizzati per il viaggio sono certificati a garanzia della massima sicurezza. Grazie per la visione!